Zappata ha un po' di spazio, tutto largo sulla sinistra, prova a prendere in velocità, Aieti se ne va, Zappata area di rigore e c'è calcio di rigore per la Sampa, calcio di rigore per la Sampa, ci ha pensato un attimo Calvarese Arriva il fischio, parte Quagliarella, Quagliarella! 2-0 Sampdoria, quinta rete in campionato per il capitano blu cerchiato e sorride anche Giampaolo avanti di due reti dopo soli 11 minuti di gioco Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti!